Ciao a tutti, io sono Andrea e come sempre vi do il benvenuto sul mio canale. Quella che vi racconterò oggi è un'altra storia di quelle che vi farà infuriare, o meglio, lo farà più delle altre. Almeno a me ha fatto venire una voglia incredibile di trovare lavoro come collaudatore di manganelli. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like e soprattutto di condividere il video se questo vi ha interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Il protagonista di questa storia è un ragazzo come tanti, Brandon Wenzel, nato nel 1993 ad Halifax in Canada e cresciuto a Bridgewater sulla costa sud della Nuova Scozia. Con una popolazione di poco più di 8.000 abitanti, Bridgewater è una città molto tranquilla dove si conoscono tutti. Sull'infanzia di Brandon non c'è molto da raccontare. Era un bambino molto affettuoso e amato da tutti, ma il suo vero grande amore era sua madre, Cheryl, che con grandi sacrifici l'aveva cresciuto da sola dopo che suo padre li aveva abbandonati, quando lui era molto piccolo. In realtà il padre era un camionista, quindi Brandon e Cheryl non lo vedevano molto spesso e si potrebbe dire che per il bambino era quasi un estraneo. Il divorzio dei suoi genitori perciò non fu particolarmente traumatico per lui, anzi lo avvicinò sempre di più a sua madre, a cui manifestava continuamente il suo affetto. Da piccolo a Brandon fu diagnosticato un disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività, noto come ADHD. Le persone con il deficit dell'attenzione possono avere problemi a concentrarsi appunto ed avere difficoltà nel controllare il proprio comportamento. Brandon non era mai stato il primo della classe, ma non era neanche il peggiore, ma i suoi voti bassi furono attribuiti appunto al suo disturbo. Per aiutarlo a concentrarsi gli fu prescritto un farmaco psicostimolante, il Ritalin. Il Ritalin è usato appunto per curare il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività. Il farmaco migliora l'attività di alcune zone cerebrali che sono meno attive, può aiutare a migliorare l'attenzione, la concentrazione e a ridurre il comportamento impulsivo. Questo naturalmente deve essere associato ad una terapia psicologica, educazionale e sociale, soprattutto perché si rivolge quasi esclusivamente a soggetti dai 6 ai 18 anni di età. Io non vorrei passare per complottista, ma do par un ragazzino di 6 anni, a mio ignorantissimo avviso è veramente una follia. È una buonissima mossa commerciale che creerà solamente farmacodipendenti in erba, manna per Big Pharma. Ripeto, personalissima idea. A Brandon non piaceva apprendere le medicine e non gli piaceva come lo facevano sentire, perché diceva che non gli permettevano di sentire il sapore del cibo e che, anziché aiutarlo, gli impedivano di pensare. Il miglioramento dei suoi odi, però, convince sua madre e i medici di aver trovato la soluzione a tutti i suoi problemi. Brandon era una persona premurosa, amorevole e generosa, che cercava sempre di vedere il buono nelle persone. Amava i nonati, i bambini piccoli, i cuccioli e i gattini. Il ragazzo non si era mai messo nei guai, finché da adolescente non aveva iniziato a godersi la vita al massimo. All'ultimo anno di liceo iniziò a fare motocrossi e a uscire tutti i giorni in cerca di nuove amicizie. Brandon amava conoscere nuove persone, soprattutto ragazze. Era un bel ragazzo e questo rappresentava una vera calamita per le sue coetanee. Durante le sue uscite, però, il ragazzo iniziò anche a fare uso di droghe leggere e di alcol e col passare del tempo, purtroppo, anche di droghe più pesanti come l'ecstasy. Brandon, che aveva veramente un rapporto speciale con la madre, le confidò di aver provato quelle droghe e lei lo pregò di smettere. Era sicura che suo figlio avesse fatto uso di quelle sostanze solo per curiosità e poi, se non avesse smesso, avrebbe dovuto vedersela con lei. Perché, a differenza di tante madri di cui abbiamo notizie da questi avvenimenti, diciamo che, per essere gentili, sono madri assenti. Ma lei no. Lo amava, lo aiutava e soprattutto lo educava, sapendo anche dispensare dei no. Anche i suoi amici intimi gli consiglierono caldamente di smettere, soprattutto perché l'uso di droghe, accompagnato all'uso dei farmaci che prendeva per controllare il suo disturbo, avrebbe potuto causargli seri problemi di salute. Brandon ascoltò i consigli di chi gli voleva bene e smese di fare uso di ecstasy, anche perché si era accorto che quella droga non faceva altro che amplificare il suo malessere. Come ho detto prima, era un bel ragazzo ed erano molte le coetanee che gli correvano dietro. Nonostante questo, lui non si sentiva ad iniziare una relazione con una di loro, perché aveva sempre considerato il suo disturbo come un impedimento ad un'eventuale relazione con una ragazza. Inoltre, aveva sempre desiderato avere una ragazza molto bella intelligente, una da portare a casa da sua madre e da presentare agli altri membri della famiglia e degli amici ed essere orgoglioso di lei. Nonostante sembrasse un ragazzo sicuro di sé, in realtà era convinto che la sua irrequietezza, dovuta al suo disturbo, non piacesse alle ragazze e che loro lo corteggiassero soltanto per delle storie fugaci. Lui invece cercava una relazione seria, è proprio vero che Kitsch al panel ci ha detto, ma lui non voleva accontentarsi di una ragazza qualunque, ma voleva trovare l'amore della sua vita, così paradossalmente per trovarla decise di rivolgersi ad un portale di incontri online e nell'agosto del 2011 creò un profilo su uno di questi. Brandon iniziò subito a chattare con una ragazza di nome Clarissa, una bellissima ragazza canadese, bionda di 21 anni, esile e molto dolce, che stava studiando per diventare radiologa e, in quel momento, stava svolgendo un tirocinio di quattro mesi in un ospedale per bambini malati e orfani a Bogotà, in Colombia. Brandon frequentava ancora l'ultimo anno del liceo, ma era un ragazzo molto più maturo dei suoi coetanei, perciò si trovò subito a suo agio a parlare con una persona più grande di lui. I suoi amici notarono quanto Brandon fosse entusiasta di lei perché Clarissa era tutto ciò che lei cercava in una ragazza, un connubio tra bellezza, dolcezza e serietà. I due iniziarono a parlare tutti i giorni e lui era sempre più preso. Lei era una ragazza dolcissima che parlava sempre della sua famiglia. Sua madre era un'infermiera, suo padre un professore alla Halifax University e suo fratello minore Kyle studiava alle superiori ed era molto produttivo nei suoi confronti. Brandon raccontò subito a sua madre di aver incontrato una ragazza su internet che si era perdutamente innamorato di lei. Le mostrò anche una foto che lei le ha inviato, una foto di lei con i suoi genitori e con i suoi parenti. Sua madre Cheryl voleva sostenere suo figlio ma le sembrò strano che avesse trovato la donna della sua vita su internet e magari non nel suo quartiere o nella sua scuola. Dato però che la famiglia di Clarissa e Clarissa stessa sembravano così brave persone, decise di approvare la relazione di suo figlio e di sostenerlo. La ragazza sarebbe dovuta rimanere in Sud America solo per quattro mesi e poi sarebbe tornata in Canada. Col passare dei giorni però Brandon iniziò a diventare sempre più ansioso e innamorato e chiese a Clarissa di poter fare una videochiamata con lei. La ragazza purtroppo però aveva dei problemi a collegare la telecamera al computer ed essendo lei a Bogotà e non conoscendo bene lo spagnolo non poteva chiedere aiuto a nessuno. Questo non impedì ai due ragazzi di proseguire la loro relazione d'amore. Dal momento che non potevano vedersi in videochiamata si chiamavano tutti i giorni, tutto il giorno e passavano tutta la notte a parlare al telefono. Però ragazzo mio, possibile che non ti si sia acceso ancora nessun allarme? Ma ricordiamoci che nel 2011 non c'erano gli smartphone che ci sono oggi e quelli che avevano una fotocamera non erano così diffusi e comunque erano molto costosi e molto rari. I quattro mesi finalmente passarono e Clarissa tornò in Canada dai suoi genitori a Tantallon. La ragazza viveva vicino a Brandon in Nuova Scozia a 80 chilometri da lui. La sola idea di saperla nello stesso paese così vicina era un sollievo ed una gioia. I problemi però iniziarono quando Brandon scoprì di non essere l'unico corteggiatore di Clarissa. Il suo ex Eric infatti era ancora in agguato. Lei lo aveva lasciato prima di partire per la Colombia perché era un violento ma lui non si era mai arreso e aveva continuato a provare a tornare con lei. Quando Eric aveva scoperto l'esistenza di Brandon non aveva preso bene la notizia e aveva iniziato a mandargli messaggi minatori su Facebook e a litigare con lui online fino ad arrivare a minacciarlo. Brandon decise di contattare il fratello minore di Clarissa Kyle perché intervenisse e facesse desistere Eric dal continuare a corteggiare la sua fidanzata. Il giorno dopo grazie all'intervento di Kyle Eric scomparve dalla loro vite e i due poterono continuare la relazione con più tranquillità. Brandon moriva dalla voglia di vedere la sua ragazza e decise di organizzare il loro primo incontro. Clarissa sembrava entusiasta ma come spesso accade il destino ci mise lo zampino. Infatti lei trovò un lavoro come cameriera in un bar dove però gli orari di lavoro erano molto rigidi. Sebbene provenissero una famiglia benestante la ragazza desiderava pagarsi da sola gli studi da infermiera ed avendo iniziato a lavorare da poco non poteva spostarsi. L'incontro con Brandon sarebbe dovuto essere rimandato ancora un po'. Anche se vivevano nello stesso paese e vivevano davvero molto vicini i due innamorati non riuscivano ad organizzarsi per riuscire finalmente a vedersi di persona. Visto che il Natale si avvicinava Brandon chiese a Clarissa di passare con lui la festività. In fondo vivevano a solo 80 chilometri di distanza l'uno dall'altro nulla di insormontabile. Clarissa accettò entusiasta l'invito e gli promise che finalmente a Natale sarebbero riuscite ad incontrarsi ma all'ultimo momento annullò nuovamente l'incontro. Questa volta sua zia, la sua zia preferita che era purtroppo malata di cancro al seno era peggiorata ed era andata a passare il Natale con la sua famiglia. Lei era ormai malata terminale e quello molto probabilmente sarebbe stato il suo ultimo Natale. Non se la sentiva di lasciarla. Brandon egoisticamente si arrabbiò molto perché lei preferiva passare del tempo con sua zia piuttosto che con lui per il loro primo appuntamento ma alla fine capì le ragioni della ragazza e si accordò con lei per vedersi il giorno del suo compleanno. Questo nuovo appuntamento gli fece tornare il sorriso e disse a tutti i suoi amici che il giorno del suo compleanno, del suo diciannovesimo compleanno, avrebbe finalmente incontrato la sua Clarissa. Loro ci rimasero un po' male perché avevano organizzato per lui una serata per soli uomini in un bar a bere perché lui avrebbe raggiunto l'età legale per bere in Canada. I suoi amici capirono capirono che loro erano la pariglia di buoi nel noto detto e quindi lo perdonarono e gli augurarono buona fortuna. Quando però arrivò il giorno tanto atteso Clarissa come era già successo a Natale annullò di nuovo l'appuntamento all'ultimo momento. Brandon carissimo a me dispiace veramente molto non averti potuto aiutare e se avessi potuto l'unica cosa che ti avrei detto è ma c'è delle amichette che vogliono la sorella mordi e fuggi ma invece di intontirti di droghe e correre appresso a questa fantomatica ragazza. A cosso di struncarti le reni e rimanere tra la vita e la morte per dieci giorni ma vai a distribuisci amore a destra e a manca come se non ci fossero domani. Guarda che poi se no te ne penti ogni lasciata è persa ma no te so è per il video no cosa scopa? Brandon era davvero sconvolto e arrabbiato e si ripromese di non contattare più quella ragazza perché non poteva stare con qualcuno che lo illudeva e poi lo lasciava ad aspettare come uno stupido senza neanche avere la decenza di avvisarlo con anticipo. Clarissa però fu molto insistente e lo pregò di perdonarla mandandogli tanti messaggi carini e così Brandon ci cascò di nuovo. Brandon ormai aveva perso la testa per lei e non riusciva a rimanere arrabbiato con lei per più di una settimana. Lei riusciva a renderlo felice. Brandon si rese conto però che la relazione a distanza non poteva durare ancora a lungo. Aveva bisogno di vederla di persona. Clarissa messa alle strette gli promise di andare a trovarlo la domenica del Super Bowl il 5 febbraio del 2012 dopo solo un paio di settimane dopo il suo compleanno. Brandon l'avrebbe portato in un bar del posto e gli avrebbero incontrato alcuni amici anche loro ansiosi di conoscerlo. Il ragazzo era molto emozionato non si fermava un attimo si mise anche a sistemare la sua stanza cosa che non faceva praticamente mai. Sua madre gli precisò però che non avrebbe potuto dormire con la sua fidanzata. Lei avrebbe dormito sul divano e lui nella sua stanza. Il 5 febbraio però un paio d'ore prima del tanto atteso incontro lei lo chiamò e gli disse che non sarebbe potuto andare all'appuntamento perché il suo capo le aveva cambiato il suo turno di lavoro all'ultimo momento. Quella fu una delusione che Brandon non riuscì a superare. Suo zio Derek lo invitò a guardare il Super Bowl a casa sua ma lui rispose che era troppo arrabbiato e frustrato e che preferiva andare a casa della sua amica Erika a godersi una serata tranquilla per sbollire la rabbia. Brandon chiamò un taxi e raggiunse la casa della sua amica con la quale si confidò a proposito del suo rapporto con Clarissa. Lei conoscendo la storia del loro amore travagliato gli consigliò di lasciarla perché evidentemente dal momento che lo faceva soffrire così tanto non era la ragazza giusta per lui. Poi l'amica se ne andò a dormire e lo lasciò in salotto a dormire sul divano chiedendogli di chiudere bene la porta prima di andare via la mattina successiva. Brandon però continuò a rimuginare su Clarissa e decise che per calmarsi aveva bisogno di un aiutino. Chiamò uno spacciatore di sua conoscenza e gli chiese dei farmaci. Ricordiamoci che Brandon aveva il deficit d'attenzione e prendeva dei farmaci in Ritalin per tenerlo sotto controllo. Decise comunque di comprare sotto banco dei farmaci su prescrizione il Dilaudid, un potente antidolorifico cinque volte più forte della morfina e ne inalò diverse pasticche schiacciate. Pur sotto l'effetto di questa medicina Brandon riuscì a mandare un messaggio a Clarissa dicendole che aveva bisogno di lei ma Clarissa gli disse di essere al lavoro al bar e gli consigliò di andare a dormire. Brandon iniziò a sentirsi molto assonnato ed intontito. Così decise di chiamare sua madre per chiederle di andare a prenderlo a casa della sua amica. Era preoccupato di non poter andare a scuola la mattina successiva perché iniziava un nuovo semestre. Sua madre però gli disse di non poter andare a prenderlo perché aveva la macchina in panne. gli disse di rimanere a dormire della sua amica e lo rassicurò dicendogli che suo nonno sarebbe andato a prenderlo la mattina presto per portarlo a scuola. Poi gli disse dormi tranquillo ti voglio bene. Non sapeva che quella sarebbe stata la loro ultima conversazione. La mattina dopo infatti Erika si svegliò e si rese conto che Brandon stava ancora dormendo sul divano. Lo chiamò e gli disse di svegliarsi perché sarebbe dovuto andare a scuola ma Brandon non rispose. L'amica si rese conto che Brandon era incosciente. Vide della polvere bianca sul suo tavolino e capì che il ragazzo aveva inalato qualcosa. Chiamò subito l'ambulanza ma quando i paramedici arrivarono si resero conto che il ragazzo non aveva polso. Il 6 febbraio del 2012 i medici del South Shore Regional Hospital di Bridgewater ne dichiararono il decesso. Alle 7 del mattino alcuni detecti bussarono alla porta della madre di Brandon e le dissero di avere delle notizie da darle sul suo figlio. Poiché sua madre sapeva che Brandon poteva diventare problematico quando sotto pressione. Pensò che avesse combinato qualcosa ad esempio che fosse rimasto coinvolto in una rissa ma purtroppo la notizia che i poliziotti le portarono era ben più terribile. Suo figlio Brandon era morto in ospedale quella mattina e avevano bisogno che lei identificasse il suo corpo. Cheryl ne fu naturalmente devastata ma pur distrutta dal dolore fu contenta di vedere suo figlio per l'ultima volta e di avere la possibilità di dirgli addio. Una volta terminato il suo ingrato compito ritenne opportuno avvisare Clarissa della morte del suo fidanzato. La povere ragazza la notizia ebbe un crollo emotivo ma si riprese in fretta. Consolò la madre distrutta dicendole che Brandon adesso era in un posto molto migliore. L'autopsia rivelò che il ragazzo dopo aver sniffato l'idromorfone aveva bevuto una bottiglia intera di vodka e questo gli aveva causato un arresto respiratorio perciò la sua morte era stata una morte accidentale per overdose. Gli amici di Brandon e la stessa Cheryl soprattutto dopo averla sentita iniziarono a incolpare Clarissa per la morte del giovane. Se lei non lo avesse deluso così tanto Brandon non avrebbe preso la decisione di fare uso di droghe. Il detective Shipley lo stesso che aveva comunicato a Cheryl la morte di suo figlio fu incaricato di condurre ulteriori ma indagini sulla morte di Brandon anche se la sua morte era stata attribuita ad un overdose accidentale. Infatti il detective sentiva che qualcosa non quadrava. Decise di scoprire cosa fosse successo esattamente quella notte e perché il ragazzo avesse deciso di stordirsi con droghe d'alcol. Tornò così a casa di Cheryl per indagare sulla vita privata di suo figlio. Le chiese se stesse assumendo farmaci o avesse particolari problemi personali. Cheryl allora gli raccontò della sua relazione con Clarissa e gli disse che secondo lei era stata la delusione per i mancati appuntamenti con la ragazza ad averlo spinto al punto di prendere le pillole per intorpidire il dolore. Sono sicura che mio figlio voleva solo addormentarsi per non pensare e non voleva succedersi. Ad un certo punto mentre il detective stava interrogando Cheryl dal numero di Clarissa arrivò un messaggio di testo al numero di Brandon nel quale la mamma di Clarissa Julie comunicava alla mamma di Brandon che sua figlia subito dopo aver appreso della morte di Brandon aveva assunto una scatola intera di pillole e si era sentita male e in quell'esatto momento suo fratello le stava praticando la rianimazione cardiopolmonare. La storia di Giulietta e Romeo? A Cheryl e soprattutto al detective il comportamento della donna sembra molto strano. Quale madre avrebbe perso tempo a mandare messaggi ad un'estranea mentre sua figlia stava morendo. L'agente di polizia si mobilitò subito per assicurarsi che Clarissa ricevesse aiuto ma quando Cheryl ricevette un altro messaggio da Julie con scritto che la ragazza si trovava su un'ambulanza ma i paramedici non erano stati in grado di rianimarla il detective cominciò a sospettare che tutta questa storia fosse una bufala. La madre di Clarissa aveva detto a Cheryl che sua figlia era stata portata all'ospedale di Halifax per Cheryl detective chiamò la polizia di Halifax per scoprire quale agente fosse intervenuto sulla scena ma scoprì che non esisteva alcuna ambulanza e nessuna giovane suicida. Non c'era alcuna traccia di una Clarissa in alcun ospedale, obitorio nel cimitero e non esisteva nessuna Julie che lavorasse come infermiera in quell'ospedale. Allarmato dalle sue scoperte Cipley si regò al bar presso il quale Clarissa aveva detto di lavorare ma quando l'uomo mostrò al gestore del bar la foto della ragazza lui disse di non averla mai vista. I detective cominciarono a sospettare che forse Clarissa non fosse una persona reale. Intanto la mamma della ragazza continuava a mandare dei messaggi a Cheryl sempre più inquietanti. Accusava Brandon della morte di sua figlia. Tutto questo causava a Cheryl uno stress a motivo molto forte tanto da essere costretta a denunciare la donna alla polizia per molestie. I detective rintracciarono il cellulare di Clarissa e scoprirono che si trovava a 130 chilometri di distanza da casa Brennan a Portmont vicino a Liverpool in Nuova Scozia. Tutto diventò più torbido quando scoprirono che il telefono era intestato ad un uomo di mezza età chiamato Derek Boudreau. Quando i detective si presentarono a casa dell'uomo lui disse di non conoscere nessuna Clarissa. Scoprirono però che l'uomo aveva una figlia di 18 anni di nome Jessica e che era stata lei all'insaputa dei genitori a creare una falsa identità online facendosi chiamare Clarissa e usando le foto di una bellissima ragazza trovata su internet. Sta busta te fare. La ragazza senza voler fare body shaming era in realtà l'opposto di Clarissa. Era una ragazza paffuta con gli occhiali un po' impacciata con un'autostima molto bassa. Anche suo fratello Kyle, i suoi genitori e il suo ex ragazzo Eric erano stati una sua invenzione. La ragazza si giustificò dicendo di essere rimasta talmente avvinghiata nella sua rete di menzogne che lei stessa aveva creato da non sapere come smettere. All'indomani della morte di Brandon Jessica fu accusata soltanto di un'accusa minore per aver ingannato la polizia durante le indagini sulla morte di Clarissa, una persona che non esisteva e che aveva creato lei su Facebook causando un enorme spreco di tempo e risorse per la polizia. In Nuova Scozia infatti il fingere di essere qualcun altro su internet non è un crimine, perciò in nessun modo Jessica poteva essere accusata di essere la causa, anche indiretta, della morte di Brandon. La ragazza non fu mai processata ma fu semplicemente obbligata a scusarsi pubblicamente con la madre di Brandon per il dolore che aveva causato a lei e ai suoi cari assumendo una falsa identità per iniziare una storia d'amore online. L'unica punizione inflitta a Jessica è stata una sorta di umilazione pubblica, uno schiaffetto sulle mani come la definì un'amica di Brandon. La sua fedina penale rimarrà limpida e pulita, a differenza della sua anima che sarà sicuramente macchiata di sugo con le spuntature di maiale e rigatoni con la pagliata. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che like, iscrizione e commenti sono gratuiti per voi ma utilissimi al mio canale. Vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo occhio a chi vi saluta sempre. Ciao